Cuccia per tutti, preparata da mani sapienti così come si faceva una volta, calda, saporita che ristora in queste giornate di freddo. È per tutti ed è gratuita come da tradizione. L'assaggio della cuccia ha avuto inizio ieri pomeriggio e si protrarrà fino alle ore 20 di questa sera. L'evento è stato organizzato in occasione della festa di Santa Lucia da Artigianando, il mercatino natalizio che si trova in via Libertà 152 a Mistretta in collaborazione con la Valle delle Cascate. Mia mamma la faceva il giorno prima, ecco perché abbiamo scelto tra l'altro di farle il toio, perché proprio la mattina ci si alzava e la colazione veniva fatta con quello. Si recitava la preghiera, il Salve Regina, che poi diciamo come voto di affidamento alla Santa si mangiava questa cuccia. I più facoltosi, anche delle stradine di Mistretta anticamente la offrivano ai meno ambienti ed era anche un atto di convivialità, del buon vicinato. Qualcuno ancora qua a Mistretta la fa.